Ciao e bentornati a una nuova video recensione del canale JustinApple. Io sono Justin, mi trovate su Twitter come JustiRosati e oggi voglio presentarvi una custodia fantastica. Non mi capita spesso di recensire accessori per Mac, sarà che lo cambio meno spesso in un dispositivo mobile, ma molto credo dipenda anche dal tempo che passo con i due tipi di dispositivi. Un iPhone è praticamente sempre con me, come una prosecuzione tecnologica del mio cervello, mentre un Mac può rimanere nella sua custodia anche un paio di giorni senza che ne senza la necessità. Nella scelta di un Mac, nel mio caso, tengo conto di due cose, fluidità e portabilità, e nel tempo sono sempre giunto alla soluzione MacBook Air da 11 pollici. Trasportabilità significa dover sottoporre il portatile ad un'incredibile mole di viaggi e spesso sottovalutiamo l'aspetto custodia. Magari non tanto da un punto di vista della sicurezza di un possibile impatto, ma da un punto di vista dello stile. In pochi lo ammetteranno, ma avere un Mac sotto braccio fa sicuramente più piacere che avere un HP. E nel momento che andiamo a fuorarlo con una custodia, questo piacere tutto nostro sparisce, ma Big Big Pixel ha creato una soluzione che ci farà notare altrettanto. La custodia, come vedete, ha le fattezze di un'enorme busta da lettere, estremamente pixelosa. Ha più feltri per rendere la chiusura solida ed ermetica e dal tatto offre una sensazione molto piacevole. L'interno della custodia, impreziosita dal marchio di Big Big Pixel, è in morbido cotone ed offre sicuramente tranquillità per possibili sfrigi o altro che il nostro Mac potrebbe subire nell'inserimento ed estrazione frequente dalla custodia. Come dicevamo in precedenza, una custodia deve anche proteggere e per quanto la Big Big Pixel non abbia di certo abbondato sullo spessore dei materiali, questi offrono una morbidezza tale da risultare comunque utili anche per la funzione primaria di attenuatore di colpi. Lo stile e l'eleganza con la quale è costruita, le fattezze perfette per il MacBook Air da 11 pollici e il costo di appena 27 euro la rendono sicuramente un oggetto da regalo per voi o per un vostro amico di sicuro successo. L'8-bit è tornato ed è ancora il re. Vi ricordo di iscrivervi infine al nostro canale su YouTube così che possiate rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video, di seguirci su Twitter, siamo JustinApplePod, di mettere mi piace alla pagina Facebook di JustinApple, vedete già abbiamo tantissime persone nella community e infine di seguirci in podcast, usciamo settimanalmente con approfondimenti sul mondo Apple, siamo appunto JustinApple, ci trovate su iTunes, ma se volete potete anche andare su www.justintech per ascoltare tutti i podcast del nostro network che parlano anche di altri sistemi operativi, anche di tecnologia in generale, di videogiochi, insomma trovate tantissimi podcast. Vi ringrazio e alla prossima video recensione. Grazie. Grazie.